ciao a tutti e ben ritornati in un nuovo video di parasiti a cattoni conosciamoci con noi c'è ciao a tutti purtroppo abbiamo rifatto il video problemi tecnici ragazzi oggi vi porto un glitch un super buone glitch dice sì se per caso avete comprato la easy da gelamento arena war quest'auto vi dà la bellezza di un milione e 7 se modificata tipo incubo e tutto al massimo io sinceramente se avete la possibilità scusate vi consiglio di comprarvi quest'auto perché paga veramente un botto di soldi circa un milione e 7 e passa passiamo subito ai requisiti dei glitch subito subito quello che vi serve il ceo e nel ceo dovremo avere tanti posti vuoti quante copie vogliamo fare io ad esempio nel video ne farò tre o quattro o se posti liberi ne farò tre o quattro l'importante che posti siano liberi e nel ceo dovremo avere anche l'officina personalizzata molto importante per salvare le nostre clonazioni le nostre copie non avremo bisogno della targa personalizzata perché l'auto clonata andrà a prendere la targa dell'auto che andremo a sacrificare ci servirà il bunker il centro paladino mobile e al suo interno una rh8 da sacrificare quindi ogni copia prenderà la targa della rh8 che andremo sempre poi a comprare poi man mano vi spiegherò tutto le glitch in più avremo bisogno di un amico per qualche minuto il tempo che ci baghiamo e poi potremo fare tutto da soli l'amico a qui sarebbe attenti sempre vicino dalla macchina perché mi è successo un paio di volte durante la gestazione del video che mi sono solucidato il vostro amico dovrà aprire una sessione solo amici voi lo raggiungete andate nel vostro bunker e da lì entrate nel com dove c'è l'rh8 ci dovremmo baggare come un vecchio glitch tenendo premuto il tasto opzioni e rilasciando il gas se ci riusciamo come adesso vedete da gameplay praticamente rilasciamo opzione diamo gas quando andremo su online avremo le due opzioni partita veloce e avvia attività baggati cioè che non potremmo premerci sopra questo vuol dire che siamo baggati e possiamo andare avanti io sinceramente dopo un paio di volte ci sono riuscito quindi non credo che sia tanto difficile una volta fatto ciò dovremo andare sul criminal enterprise star pack andremo su veicoli e andremo su un qualsiasi veicolo la moto l'auto quello che vedete poi sopra destra vedete che c'è il sito dove viene venduta la macchina andremo sul sito poi dal sito dovremo andare sulla home c'è dove vedete la casetta la casetta andando sulla casetta andremo su warstock e andremo sul nostro centro operativo mobile da lì dovremo apportare una modifica al com io vi consiglio il colore che quello che costa di meno 80 mila di dovete spendere una sola volta perché una volta che vi siete baggati potete fare macchine a manetta cioè quasi uno dietro l'altro potete fare tranquillamente quindi andiamo a scegliere un colore qualsiasi andiamo su modifica una volta cliccato modifica qui arriva l'altro passo che dovete stare molto attenti adesso andremo a premere il tasto opzioni e quando apporteremo le modifiche dovremo rilasciare il tasto opzioni dove dove essere veloci quindi andremo ad acquistare e subito dopo rilasciamo tasto opzioni avremo un po di bug e vedrete che saremo una schermata nera infinita e avremo il menu il menu di opzioni aperto se tutto va in questa maniera vuol dire che stiamo andando bene con il glitch e possiamo proseguire vi ricordo questo glitch funziona anche su xbox one mi ero dimenticato di dirlo all'inizio il video scusate lo scriverò nel titolo però non so adesso il pulsante per il per il menu quindi fatelo sapere nei commenti noi usiamo il tasto opzioni una volta che saremo baggati col menu andremo sul criminal enterprise star pack premeremo x e avremo questa schermata nera premeremo una sola volta cerchio e ci riporterò nel menu del criminal enterprise star pack da lì andremo su opzioni e andremo su ucciditi e andremo a suicidarci quando saremo spawnati saremo spawnati al terminal adesso avremo bisogno della mano del nostro amico il nostro amico dovrà stare nel suo bunker e da lì mandarci un invito al suo bunker il bunker è indifferente dove ce l'ha può avere qualsiasi tipo di bunker non è importante può essere diverso dal vostro ci manda l'invito e accetteremo l'invito per entrare nel suo bunker l'amico dovrà fare due semplici cose una entrare con noi nel suo com e l'altra portare il com al nostro ceo ma vi farò vedere anche l'espressione dell'amico noi andremo verso il com apriamo il tasto opzioni e diremo al nostro amico di entrare nel suo com adesso vi faccio vedere cosa fa l'amico l'amico ci invita logicamente come ho detto che ho messo velocità abbastanza veloce noi andremo vicino al com quando saremo vicino al com tasto opzioni il nostro amico entrerà nel com con amici e membri della crew una volta che sarà dentro uscirà fuori avrà solo la scritta di uscire da solo entrerà nella motrice e uscirà fuori e ci porterà al nostro ceo durante il tragetto noi saremo in questa schermata così nera non toccare niente finché il vostro amico non sarà arrivato lì appena sarà arrivato il vostro amico dovrà uscire di sessione cambiare sessione andare nell'editore dove vuole una volta che sarà uscito di sessione avremo una schermata buggata che usciamo fuori dal bunker poi un'altra è un'altra ancora nera per una decina di secondi e poi saremo ci troveremo spawnati al nostro ceo a questo punto andremo a richiamare l'auto che vogliamo duplicare logicamente auto di benny e se volete duplicare qualche auto personale di lusso potete tenere la copia a vendere originale se volete fare i big 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 money sfiziuse sfiziuse vi consiglio la easy la mini come ho detto già inizio video paga tantissimo se non avete potete fare con retro custom oppure con veicoli che sono inferiori a un prezzo di vendita di 100 mila dollari quindi però andate su love rider state tranquilli qui mi è successo che mi sono ammazzato comunque una volta che siamo spawnati chiameremo meccanico col meccanico l'auto che vorremmo duplicare dal garage dove si trova con il menu interazioni andremo a richiedere il nostro centro operativo mobile e con l'auto che vogliamo clonare andremo poi al nostro centro operativo mobile qui lo sto richiamando perché l'avevo chiamato sono morto e poi non me l'ha portato più quindi ho dovuto richiamarlo appena che è spawnato andiamo con l'auto verso il centro operativo mobile quando ci avviciniamo per entrare siccome che su all'interno c'è l'r h8 ci dirà che pieno quindi premeremo una volta la freccetta l'estero entrare x per confermare la schermata che è pieno e avremo un altro tipo di bug e sarà tutto normale quindi non vi preoccupate vedete questo è il bug avremo una schermata nera dopo la schermata nera potremo aprire il menu interazioni dal touchpad sulla xbox non lo so e andremo di nuovo a suicidarci una volta che se siamo suicidati vedete ci vedrà l'immagine che c'è che avremo la macchina ancora lì vicino al ceo una volta che siamo spawnati i passi che andate di nuovo verso l'auto una volta che saremo arrivati verso l'auto bisogna entrare nel ceo mi raccomando dove avete i posti vuoti una volta che siete entrati dentro l'ultimo passaggio che dovremmo fare per salvare la macchina e cambiare qualcosa logicamente gli andremo a cambiare la tag che è quella che costa di meno sui 200 dollari una volta che avremo cambiato la targa potremmo già passare alla prossima alla prossima copia quindi dopo che vi siete buggati è tutto in discesa potete fare tutte le copie che volete voi ultima cosa importantissima che il vostro amico non deve più ritornare in sessione se il vostro amico ritorna in sessione il glitch bisogna rifarlo tutto da capo perché avrete una schermata nera infinita comunque questa è la prima copia se volete fare un altro logicamente andrete ad acquistare nel centro operativo mobile un rh8 non serve che aspettate che venga consegnata potete ordinarla uscire fuori dal meccanico chiamate la vostra macchina che volete duplicare e rientrate nel com e fate così finché non avete riempito tutti i posti del vostro ceo ragazzi spero questo video vi sia piaciuto un abbraccio a tutti ci siamo al prossimo video saluta mertin ciao a tutti alla prossima ciao 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 ciao